Ciao, nostri cari follower, un violentissimo terremoto di 6,6 gradi ha colpito oggi, lunedì 17 luglio 2023, ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate prima di sostenerci mettendo mi piace a questo video e iscrivendovi al canale con l'attivazione del campanello su tutte le notifiche per ricevere tutto nuovo ed esclusivo, grazie se un terremoto molto violento ha colpito lunedì mattina, precisamente alle 5.10 minuti del mattino ora italiana, alle 11.00 di notte ora argentina, lo stato dell'Argentina, in particolare la regione di confine tra Argentina e Cile, e l'epicentro della scossa è stato localizzato a 25 chilometri dall'Oncopue in Argentina, a 192 chilometri. A proposito di Angeles in Cile, ha una profondità di 171 chilometri dalla superficie terrestre, e secondo il Centro Europeo per il monitoraggio sismologico, l'intensità del tremore ha raggiunto circa 6,6 gradi della scala Richter e anche i residenti in Argentina e Cile hanno avvertito una scossa molto forte che è durata alcuni secondi e non abbiamo informazioni su ciò che è accaduto dopo questo terremoto, ma speriamo che non ci siano perdite materiali o umane, e qualsiasi altra importante novità di cui vi informeremo in seguito e, infine, buona salute!